Impostare il Parental Control sul tuo SkyQ è semplice. Premi il tasto Home sul telecomando. Vai alla sezione Impostazioni e seleziona Parental. Per entrare, inserisci il tuo PIN. Da qui puoi proteggere i noleggi Sky prima fila, la visione dei contenuti per fasce d'età e l'accesso alle app. Nella sezione Noleggi puoi anche impostare la modalità Famiglia. Attivando quest'opzione, le voci PIN per noleggi e Nascondi contenuti per adulti saranno automaticamente attivate. In questo modo, ti verrà sempre chiesto di inserire il PIN per confermare il noleggio di contenuti prima fila e le sezioni Hot Club verranno nascoste. Puoi anche gestire separatamente le singole voci. Per cambiare le altre impostazioni, torna indietro nel menu e seleziona Programmi. Da qui puoi attivare la protezione della visione dei contenuti a seconda della loro classificazione per fasce d'età.